...if it's warm enough... Matte, hanno preso Andrea e i carabinieri e l'hanno portato vicino al lungodere che sta là con loro Te lo giuro, mi ha chiamato il telefono tuo Te lo giuro, l'hanno preso e gli hanno fatto parcheggiare la macchina e l'hanno preso la macchina e l'hanno portato al lungodere Emo la scelura No Per il giro dobbiamo andare Sto a ridere